Sabato 6 maggio alle ore 10 presso la sala aurea della Camera di Commercio di Parma c'è la prima assemblea plenaria di tutti i proprietari di terreni fabbricati del Comune di Berceto. Risultano 5.000 persone alle quali abbiamo inviato l'invito e spero che siano veramente tanti coloro che parteciperanno a questa assemblea plenaria. È importante perché dobbiamo condividere insieme come utilizzare il meglio le proprietà nel Comune di Berceto che è di 131 km quadrati. Dobbiamo contrastare l'abbandono, il dissesto idrogeologico, l'inselvatichimento di tutto il nostro territorio che diventa sempre meno appetibile. Dobbiamo contrastare anche la rovina di tante case che hanno un'architettura molto bella. Dobbiamo ricercare insieme le modalità per raggiungere questo risultato che ci porterebbe un notevole benessere su tutto il Comune. Dopo il 6 maggio ci saranno anche altre riunioni durante l'estate presso tutte le frazioni e soprattutto tutti i proprietari di terreno potranno votare dal 1 di agosto al 31 agosto presso la sala del Consiglio Comunale una scheda che presenta diverse opzioni che ognuno liberamente seglierà. È un'azione molto importante, siamo il primo Comune sicuramente in Italia a farlo ma credo che possiamo anche dire di essere forse il primo Comune sicuramente in Europa che tenta di coinvolgere tutti i proprietari di terreni immobili sul proprio territorio per stabilire insieme e condividere insieme dei regolamenti e delle azioni per strappare tutto questo territorio dall'abbandono.